Domenico Solano, segretario della sezione del Partito Democratico di Palmi, ritira la sua candidatura a sindaco. L'annuncio è arrivato ieri e conferma le voci che già circolavano da tempo. Verificato che non ci sono le condizioni per concretizzare una candidatura alternativa e di cambiamento, ritiro la mia disponibilità a correre per la carica di sindaco. Esordisce così l'ormai ex candidato alla conquista della poltrona più ambita di Palazzo San Nicola. Nonostante si fosse partito in ritardo, prosegue Solano, si era comunque riusciti a comporre una lista rappresentativa della società palmese, espressione della nostra comunità nelle sue varie componenti. Quel che è mancato sono le presenze e il diretto impegno di espressioni politiche in grado di dare connotati specifici alla lista stessa, di renderla alternativa rispetto alle tante liste civiche che affollano lo scenario di queste elezioni amministrative. Solano continua a spiegare le ragioni del passo indietro. Serietà, impegni e coerenza sono ingredienti importantissimi, ma di per sé non sufficienti a determinare un'offerta politica di cambiamento. La politica seria si coniuga con il noi e non con l'io, presuppone la formazione di una squadra e non la somma di singole individualità. Il segretario della sezione del Partito Democratico, tuttora invischiato nelle polemiche sulla strategia da seguire in questa tornata amministrativa e che ha visto la fuoriuscita di mimma di certo, analizza l'attuale momento elettorale non lesinando critiche. Rimango fermamente convinto che la buona politica, dice ancora Solano, sia l'unica strada da percorrere per risollevare palmi dal degrado in cui versa. Al contrario, oggi sembrano prevalere da una parte posizioni personalistiche e dall'altra atteggiamenti di altezzosa supponenza di chi crede di essere sempre dalla parte del giusto e non accetta il confronto con gli altri. Quello di Domenico Solano è solo l'ultimo di una serie di ritiri da parte di candidati a sindaco. Per prima c'era stato Renato Vigna, che ha annunciato l'appoggio a mimma di certo, poi è toccato a Carmelo Olentino. Il terzo a fare il passo indietro è stato Gaetano Topa. Sono rimasti in sei, salvo ulteriori sorprese, a contendersi la sindacatura. Si tratta di Giuseppe Ranuccio, Francesco Trentinella, mimma di certo, Silvana Misale, Pino Ippolito e Aldo Trimboli.